Carissimi amici è arrivato PaninoTube, oggi siamo qua con un nuovo gioco di disegno, siamo su Draw Puzzle, un nuovo gioco dove dobbiamo disegnare per vincere, quindi che dire proviamolo subito insieme, ma come sempre mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like Se il like che lascerete sarà pari avrete un quadro che raffigura un paesaggio di montagna, se invece sarà dispari il quadro raffigurerà un paesaggio di mare Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale quadro vi è uscito fuori, iscrivetevi al canale con la campanella in tipo per far parte dell'AparinoFamily Ma adesso direi di partire, direi di cominciare subito e proviamo a fare qua il primo disegno, dobbiamo disegnare qua la faccina dell'omino di Among Us Ed eccolo qua, perfetto, livello superato, completato, prossimo livello, ah qui c'è la lampadina in caso io ho bisogno di aiuto, ma tanto qua me lo dice già cosa devo disegnare Devo disegnare gli occhi, e vai guardate qua, il dinosauro sputa fiamme blu, cioè come fa a sputare il fuoco blu E guardate, sputa il fuoco blu, vabbè prossimo livello, gli amichetti del matrimonio si sono sposati, però mancano i fiori al bocchè Quindi lo disegniamo ora sul momento, vai, livello superato, beh devo dire che questi disegni sono di gran lunga più facili rispetto a quelli di Just Draw Devo dire che sono molto molto più facili, ok, questo è stato molto facile, un altro amichetto di Among Us, mi dovevo disegnare qua l'ala Perfetto, perfetto, però sta vibrazione non si può togliere, non ci sono delle impostazioni per togliere la vibrazione Ah ok, sì, perfetto, si può togliere la vibrazione nel gioco, meno male, no, più che altro perché a lungo andare dà un po' fastidio, no? Ok, ok, qua ci sono i due amichetti di Among Us, c'è l'Among Us Poliziotto e l'Among Us Ladro E dobbiamo disegnare la spada dell'Among Us Ladro, ok, e no, no, schiacciate, così mi fanno veramente un sacco ridere Le animazioni di Among Us a me fanno troppo ridere, ok, mettiamo qua l'orecchio Fatemi sapere se vorreste vedere un video dove facevo la reazione alle animazioni più divertenti di Among Us a me fanno un sacco ridere Ma perché ci sono schiomini così, no, che si muovono, che fanno le cosette e fanno un sacco ridere Va bene, prossimo livello, c'è l'Amichetto che deve raggiungere l'altro lato, però manca il ponte E ci penso io, ci pensa il costruttore panino a fare il ponte, ma dai, ma non ha neanche attraversato sopra il ponte Si è messo con i raggi sotto il piede ad attraversare, e ma così non vale, ma così non vale Va bene, c'è l'Amichetto granchio, però è triste perché gli manca un occhio Ci penso io, ci pensa il chirurgo panino, il chirurgo dei granchi E vai, livello superato e completato Anche qua gli amichetti di Among Us che si rincorrono, vai, vai, vai C'è quello che vuole lanciare la pozione sopra l'amichetto pompiere Va bene, va bene, uuuuh, guardate qua chi c'è, guardate qua chi c'è Ed ecco qua, gli abbiamo pure messo un occhio, così è bello contento Ok, allora qui c'è Among Us Joker che vuole puntare qualcosa verso Among Us Batman Vediamo cosa succede, ah ok, proprio così, finito al contrario Finito al contrario proprio, spettacolare Livello 14, c'è il biscotto che però è stato mangiato da un lato E noi dobbiamo ricostruirlo Il biscotto è tornato normale E guardate come festeggia, festeggia È la prima volta che vedo un biscotto che festeggia e si mette a ballare per la felicità È la prima volta che mi capita di vederlo Ma non parlo proprio nella realtà perché nella realtà è impossibile Ma proprio dentro un gioco, non ho mai visto un biscotto festeggiare così Va bene, livello 15 C'è qua da mettere una parte, vabbè, penso che dobbiamo mettere il blocco di qua Perfetto, questi livelli sono molto facili Sono molto più facili Spero che rimangano facili anche per i prossimi livelli Altrimenti qua mi sa che torniamo a un Just Draw 2 Ok, ma non penso, sembra molto semplice questo gioco rispetto a Just Draw Sembra di gran lunga e semplice Ok, l'amichetto però gli manca qua una scarpa E gliela facciamo subito E vai, ecco qua, con tutte e due le scarpe Adesso c'è qui la mela morsicata Ma ecco qua, che adesso è tornata una mela normale Prossimo livello Ancora qua, c'è ancora Among Us Joker Però ecco qua E ora è stato legato perfettamente Ok, qua per resumo che quella blu sia una ciambella Proviamo a vedere Esatto, esatto, ho indovinato Era una ciambella Ok, Among Us Unicorno Ed ecco qua che gli facciamo subito lì davanti E guardate come festeggia allegramente E come saltella tutta quanta felicemente Prossimo livello Ok, allora Gli dobbiamo mettere qua il corno in questo modo Perfetto Bene, sono facili questi livelli Sono molto facili, guardate No, io voglio qualcosa di difficile Voglio un ritorno di Just Draw Proprio qualcosa con nuovi livelli ancora più complicate Io il gioco di Just Draw Non l'ho ancora disinstallato Perché non si sa mai Magari esce fuori un nuovo aggiornamento con nuovi livelli Se io dovessi disinstallarlo e reinstallarlo Mi tocca rifare tutti quanti i livelli che ho già fatto Mi toccherebbe di nuovo sclerare dietro ogni singolo livello Ok, facciamo qua No, no, veramente Just Draw mi ha fatto fare certi incubi Cioè non mi prendeva il disegno dell'ombrello Della palla Di quello Di quell'altro E beh, veramente Poi uno prendeva il telefono E lo lanciava contro il muro Lo lanciava sul balcone Direttamente Proprio dicendo Uè, telefono Fatti a fare un volo qua Ok Qui invece dobbiamo completare il disegno Cioè guardate Qui anche se sbaglio la linea Me la prende lo stesso Ad esempio Io qua faccio uno scarabocchio Guardate Me l'ha preso Ho fatto uno scarabocchio Ok, c'è qui l'amichetto da solo Ok, ora non è più da solo C'è un peso da 100 Non mi dici se sono 100 grammi 100 kg 100 niente Potrebbero essere anche 100 tonnellate Quel blocco lì Oh mamma mia La sedia però gli manca qua E gliela facciamo subito Vai Livello 30 superato Perfetto Ci sono qua gli amichetti di Among Us Con il pad Perfetto, perfetto È andato perfettamente sto livello La palla da golf In questo modo Gliela disegniamo subito Vai Mamma mia Mi ha rotto lo schermo del telefono Guardate come si rompe lo schermo del telefono Ok Allora Facciamo in questo modo La tazza Spettacolare Dai, dai, dai Sti livelli sono Molto, molto facili Torniamo qua Facciamo qua La parte della ruota Panoramica Perfetto Facile, facile Un gioco più facile di questo Non l'ho ancora Visto C'è veramente Facilissimo sto gioco Ora qua Disegniamo l'amichetto di Among Us Così Ma cosa? Ma guardate qua Come si spingono l'uno con l'altro Ma perché vi dovete spingere? Ma perché? Vabbè Lasciamo perdere Lasciamo perdere Qui pare che ci manca la parte di Ashe Di accetta E vai Prostimo livello Oh mamma mia Le cuffie via cavo Le cuffie via cavo Che si attaccano ad un vecchio iPod Vai Spettacolare Superato Oh mamma mia Ma questa qua è la faccia del cagnolino del meme E la faccia Sì è la sua faccia Guardate qua il cagnolino del meme Prostimo livello Oh mamma mia C'è il matrimonio qua C'è il matrimonio C'è l'amichetta mongas Che vuole dare l'anello All'amichetta mongas Che si deve sposare Ma dietro c'è anche quello rosso Non so perché Ma la mongas rosso Quello là che sta di più A destra Nasconde qualcosina Non lo so Proviamo a vedere Ecco qua L'anello del matrimonio E ora Ma cosa? Ma dai Ma gli ha preso la moglie Gli ha rubato la moglie Io lo sapevo che la mongas rosso Nascondeva qualcosa Io lo sapevo Me lo sentivo Me lo sentivo dentro di me No veramente bellissima Sta scena Nivello 41 Torniamo qua Dobbiamo completare Quel disegno delle ciliegie Perfetto Nivello superato E completato Nivello 42 In questo modo Perfetto L'amongas muscoloso No ma quello Ha aperto la botola E l'ha fatto cadere fuori No ma secondo me L'ha proprio espulso fuori Dalla navicella E' espulso fuori Ma cos'è questo? Ma da quando? Ci sono i contenitori Di among us Che dentro contengono i Cos'è? Sembra più un bubble tea Quello A me piacciono un sacco i bubble tea A me piacciono Prossimo livello Oh finalmente si cambia personaggio Siamo passati da che? Avevamo Among us Ad un simpson Che poi non è neanche un personaggio Ma chi è questo? Sembra una fusione Un Bart con i capelli blu Cosa è? Bart è andato a prendere i capelli di Milau Se li ha messi in testa Prossimo livello? No Torniamo di nuovo Qua tema among us Va bene Facile Ma sti disegni di among us Sono molto facili Ok guardate qua la matita Qua come disegna Come fa Vediamo se me lo prende Faccio qua uno scarabocchio Ma cosa? Ho fatto uno scarabocchio Me l'ha preso Sì dovrebbero migliorare un po' il gioco Rendere più reale il disegno che ne facciamo Perché io potrei disegnare qualcosa Cioè veramente Adesso io qua disegno Un Non lo so cosa ho fatto Non lo so neanche che cosa ho disegnato Ma me l'ha preso Me l'ha preso Dai Dai Vabbè torniamo a disegnare seriamente C'è qua il rotolo Gli completiamo di qua Fatto Livello facile facile Livello 50 E qua ecco qua Effettivamente Mo che devo disegnare C'è qua Mamma among us Che vuole esprimere il proprio affetto Verso suo figlio among us Ma cosa devo disegnare qua adesso? Non lo so Disegno qua un ponte Una mano Mi faccio qua una mano Che devo disegnare qua Così Cosa devo fare? Ah ok Ecco questo qua non era neanche tanto facile Perfetto E mo quasi ritorna ad un livello facile L'amichetta carota che mi manca una foglia E vai Superato questo livello Livello 52 Cosa c'è qua da fare? Adesso la candela Spettacolare Ma è facile sto livello Datemi dei livelli complicati Livelli dove posso mettermi a sclerare Altrimenti mi tocca far finta sclerare Adesso faccio finta di sclerare No perché mi manca fare queste cose quando disegno Ma dai Cosa c'è qua da disegnare? Perché l'amichetto si è messo a giocare a golf? Ah vabbè dai Disegniamo qua la mazza da golf C'è ben poco qui da sclerare Ok no adesso qua che devo fare? Cosa devo fare qua? No Forse è così Proviamo a vedere E vai abbiamo chiuso il recinto Così gli amichetti lupi non possono mangiarsi le pecorelle E no E no Mi spiace Mi spiace Qua c'è il nonnetto tutto quanto arrabbiato Perché la televisione è spenta Non funziona il televisore Già li mi immaginano E però ci pensiamo noi Arriva elettricista per il tube Che ripara anche ogni tipo di televisore E mettiamo qua il cavo E adesso qua il nonnetto è tutto quanto contento Perché si può guardare la ruota della fortuna Anche se in realtà non la stanno più facendo da tempo Ma va bene Torniamo qua avanti Mettiamo qua la cosa della TNT Perfetto livello superato Ma povero pesce pagliaccio Povero pesciolino pagliaccio L'hanno mangiato a metà E vabbè ci penso io a rifarti Ti ha ricostruito parte del corpo Spettacolare Oh mamma mia il pennello Però gli manca qua una parte di pennello Perfetto Livello superato Completato L'amichetto elefante Con la proposcita messa a metà E noi gliel'abbiamo riparata Spettacolare No Guardate lì Ci sono due amichetti di Among Us Che hanno il palloncino E quello polizietto senza palloncino Che sta Più Sta proprio sprofondando nel vuoto Eh no E io ti faccio il palloncino Così tutti quanti sono salvi Vai Ok Un altro amichetto Among Us Penso che qui ci voglia il figlietto Eccolo qua Sì Ci vuole il suo figlio Da mettere nel vaso L'uccellino senza becco Ma ci penso io a farti il becco Ah non era neanche un uccellino Vabbè comunque Ti ha rifatto il becco Un altro amichetto Among Us Qua da fare Ma tutto quanto tema Among Us Sto gioco Ok Forse stanno arrivando i livelli Quelli non più tanto simili ad Among Us C'è qua l'amichetto Che deve farsi la doccia E noi li dobbiamo chiudere qua Con la tenda in questo modo Ma cosa Mi ha tirato fuori i muscoli Così all'improvviso Oh Finalmente dei livelli Diversi dal solito Anche se mi sembra di averli già fatti In un altro gioco Quei livelli Non so perché Ma li ho già visti in un altro gioco Ah ok E mi ha già fatto qua Perfetto Cosa Ma guardate E' diventato un albero L'Among Us E' diventato un albero Bellissimo Spettacolare Ok Il veliero da mettere qua Parte della tenda Vai Completato L'amichetto mago Cosa c'è da fare qua Io ho fatto un disegno a caso Però li mi ha preso tutt'altra roba Ma Meglio così Meglio così Non ce la mentiamo Disegniamo di qua Vai L'Among Us Ninja Vai Pinguino Aspettate Qua ci vuole da disegnare Forse la fanciulla Ma vabbè Non è Non so che cosa sia Ma va bene lo stesso Ok Oh mamma mia Ci penso Io dobbiamo fare l'igienizzante Abbiamo fatto l'igienizzante Qui ci vuole sicuramente un pingu Cos'è Cos'è Stavo per dire un pinguino Ma questo Ma che animale è E' un pinguino con la testa di cane Ma quando mai si è messo un pinguino con la testa di cane Ma da dove è sboccato fuori Prossimo livello Ok l'amichetto preistorico Che deve cucinare qua Chi è questo Sembra il fratello di Comics Bob Gli disegno qua la carne da cucinare E' tutto quanto triste perché Mentre Bob di Comics Bob è riuscito a proseguire con i livelli Lui non ce l'ha fatta E quindi è rimasto così Che cosa stavo disegnando Mentre parlavo stavo disegnando robe a caso Non so neanche io Ok C'è l'amichetta qua da completare dietro gli occhiali Vai Livello superato e completato Ora c'è da mettere qua la candela Perfetto Direi di fare ancora un paio di livelli Oh mamma mia Fingespinner Non li vedevo da una vita Da una vita non li vedevo sti cosi Va bene Qui c'è da fare trees C'è da disegnare quel cerchio Perfetto Vai L'estintore Completiamo qua con l'estintore Spettacolare E ora direi di fare l'ultimo livello C'è l'amichetto pesciolino Penso che gli manca l'occhio Perfetto Livello superato E l'amichetto pesciolino È tutto contento Quindi che dire Con questo bel pupazzo di neve Che ci saluta con una sola mano Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Così vi vedete Iscrivetevi A carriere con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video Come sempre vi auguro Una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti E buon panino a tutti Ciao a tutti